Beh sì, perché io dico che è un gioco perché ha il ritmo di un gioco, è il ritmo veloce di qualcosa che si scambia velocemente, un dialogo velocissimo. Quindi naturalmente non c'è approfondimento, ma c'è un saltare da un momento all'altro, da un tema all'altro, però fatto con sistema diventa appunto qualche cosa di comprensibile in cui si entra e si sta al gioco. Quindi non è fatto perché manca il tempo, è fatto perché il tempo deve avere quello spazio lì, questo tipo di incontro. Grazie a tutti.